prima di iniziare questo video volevo avvisarvi di una cosa molto importante questa serie è stata fatta a scopo di divertimento pertanto non essendo un cantante non eseguirò mai le canzoni ad alti livelli come fanno i professionisti quindi io vi chiedo comunque di apprezzare il mio lavoro fatto anche senza prove un tentativo solo e nulla buon video e fate a modo ciao a tutti ragazzi che dove magno e bentornati sul mio canale oggi sono finalmente tornato per effettuare il sesto episodio della serie le cover di me stesso la canzone che andrò ad eseguirvi oggi è dove si va dei nomadi una canzone che partecipò al festival di sanremo nel 2006 e questa canzone ha un significato molto profondo perché parla di un padre che scrive una lettera al figlio nel quale gli racconta le difficoltà di mandare avanti una famiglia nel quale gli racconta anche che a ogni azione che si fa si riceve una conseguenza tutta qui la spiegazione vi lascio all'ascolto sai scriverti una lettera non è una cosa facile sai mi sento così fragile le bombe non ti ascoltano ma questa guerra non mi cambierà mai mai dove si va dove si va come si fa a stringere la vita intanto fuori scoppia la notte dove si va come si va come si va come si va se vivere da queste parti come di dare a sorte sai il tempo è scivolato via ma non è stato tutto inutile io saprò vederti crescere è una promessa che non mancherò e poi e poi ancora un altro giorno dove si va dove si va dove si va come si fa se dovrei riprendermi ma è più difficile combattere se il pianto di una madre no non può salvare la notte la notte dove si va come si fa a stringere la vita intanto fuori scoppia la notte dove si va dove si va dove si va come si fa se vivere da queste parti come di dare a sorte sai scrivere una lettera non è mai stato facile ok ragazzi e anche per oggi il video termina qui io vi ringrazio per avermi ascoltato e come al solito vi invito a supportare questo video e tutto il canale quindi se ancora non lo avete fatto iscrivetevi è fondamentale che vi iscrivete e nulla non ho altro da dirvi le solite raccomandazioni non ve le dico perché tanto state chiusi in casa e finché non finisce l'emergenza del coronavirus non vi do più non rubate non uccidete che tanto non lo potete fare rispettate le norme del governo cercate di stare attenti sia per voi e sia anche per gli altri seguitemi su instagram mi chiamo domenmagno official e nulla fate i bravi fate a modo ciao ciao